Ciao a tutti ragazzi, sono Sergio, faccio questo video in extra, appunto, cioè faccio la cellulare e carico perché non mi avete più visto fare video e oggi ve lo spiego, anzi, ve lo spiego al titolo che trovate sotto. Guardate che stato sono, con una via venosa nel collo, la barba lunga, un colorito che non è il mio e sono uscito nel cortile dell'ospedale per poter registrare il video. Allora, parliamo del fatto che questo video non è una bufala, sono stato operato veramente giovedì mattina e non ho ricoverato mercoledì 12 e ho operato giovedì 13 e quindi ho bisogno di un po' di riabilitazione. Mi hanno risvegliato, i due giorni successivi, i due tre giorni, comunque non stavo bene, mi è venuta la febbre anche a 40 e ho tosato un po' le loro regole, ecco, in certi giorni non potevo alzare, farmi o mangiare, faccio delle cure antibiotiche che mi levano anche i 6-7 ore al giorno perché devo stare attaccato alla boccettina, ecco. Allora, mi dispiace prima di tutto perché non posso portare i video in questo momento, anche perché c'è un wifi in ospedale che fa paura addirittura al mio telefono e poi magari bloccare la connessione di tutti quanti. Ho usato il computer, ho montato qualche video per le forze che mi sono rimaste per farlo e niente. Altro da dire. Dico comunque, vi ripeto che questo video non è una bufala perché chi dice, eh, fa video come, eh, le esce e poi non è vero, lo fa solo per visualizzazioni, no, è vero. Questo è l'ospedale pediatrico a Puania, si trova a Massa in Toscana e il miglior ospedale cardiologico d'Italia, cioè non lo dico io ma lo è e è fortuna che ce l'ho abbastanza vicino a casa, qui è il vento, perché c'è gente che si può prendere la sua venta a schermo, che si può prendere la sua venta a schermo, che si può prendere la sua venta a schermo, che si può prendere qui, appena venti metteranno comunque tornerò alla mia attività, non vi preoccupate sia su Facebook che su YouTube, soprattutto, e ho già qualche video montato, come avevo accennato Far Cry, il video di Far Cry è già lì pronto per essere mandato, e aspettiamo solo che Mila è venuto di qui di tornare a casa e continuare ciò che per ora mi piace fare di più. Scusatemi, il video è anomalo, fuori programma, però magari dite non pubblica più il video, no, non vi preoccupate, tornerò, tornerò. Ciao a tutti.